Il patronato Inca CGL ha avanzato all'INAIL 43 richieste di riconoscimento di malattia professionale. L'INAIL ne ha accolte 19, riconoscendo quindi il principio che il solo bioaccumulo di FAS nel sangue è di per sé un danno alla salute. Siamo in attesa delle risposte rispetto alle altre domande. L'INAIL ha respinto le tre richieste invece di danni relative a tre lavoratori deceduti. È la prima volta in Italia che viene dato all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro un riconoscimento della malattia professionale per bioaccumulo di FAS nel sangue dei lavoratori. Un danno riconosciuto del 2% che non dà diritto a risarcimento ma che stabilisce un precedente importante riconoscendo il rischio e la nocività della presenza delle sostanze derivate dal fluoro nell'organismo, potenziali cause di patologie correlate. Anche per questo la CGL si è opposta alla richiesta di archiviazione dell'esposto depositato in procura nel 2019 a conclusione delle indagini dei carabinieri del NOE di Treviso che avevano dato origine alle ricerche sui danni alla salute dei lavoratori della Miteni nel 2020. Diciamo che non è chiuso affinché non si pronuncia il Tribunale, poi che si pronuncerà il 16 marzo, poi noi non molliamo, stiamo sul pezzo e vogliamo non far sentire abbandonati i lavoratori perché cerchiamo di rappresentarli quando lavorano ma anche quando ci sono problemi conseguenti al lavoro noi vogliamo esserci in prima linea a tutela dei loro interessi e per dire che non c'è un lavoratore che deve sentirsi solo abbandonato.